Ciao ragazzi, ciao ragazzi, oggi video spesa solamente perché ho base di feretta, è frettissima. Allora, sono stata a Sapore di Mare e ho preso, allora, ho preso questi, questi gamberi, aspettate un attimo, questi gamberi, c'è anche vari rumori, poi ho preso queste qua che sono appunto filetto di merluzzo panato e costano tantissimo, e poi vedete trovare questi che sono porzioni merluzzo nordico al limone, sempre fatti così, poi sono stata lì per Simpli, ho preso questa cassettina di fragole, questa colomba da regalare a Pasqua, c'è un po' di rumore, poi le merendine per Christian, purtroppo queste hanno olio di palma, ma non si trovano cornetti senza olio di palma, quindi questi qua sono vuoti, le tagliatelle di garofalo, buonissime, poi abbiamo preso il pan bauletto del Simpli, buonissimo, questo è quello grano duro, poi questi burger buonissimi vegetali ai fagioli borlotti, cos'altro? Le mele, e poi ho preso questi yogurt da bere della Mila, questo è alla, metti a fuoco, maledetta pesca, e poi ho preso questo alla tropical praticamente, cioè mango, ananas, papaya, un po' di tutto. Ora ho preso i funghi, i finocchi, banane, e cos'altro? Le tagate, il pedano, e poi, 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 il cocco, questo qua, rapè. Queste pizze, che forse ve le ho già fatte vedere, sono quelle margherita semplicissime, non hanno olio di palma, poi ho preso questa, oddio, qui qua, al, che si chiama, tradizionale, ci sono cereali, legumi, robe varie, e ho preso anche quella, che non trovo, questa qua, che è praticamente simile, però un po' diverso. E niente, il video si conclude qui, saluto! Ciao a tutti! Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video! Ciao!